ciao ragazzi sono qua a presentarvi il terzo contest del giardino carnivoro siete stati bravissimi sugli altri due sarà un contest ancora su instagram visto che si possono creare delle storie vi ho portato qua su youtube perché i vincitori creerò praticamente un video dove metterò i 10 vincitori perché questa volta saranno ben 10 diciamo tutti i 10 partecipanti che avranno vinto riceveranno la maglietta che le ho ordinata quindi a breve arriveranno poi mi direte la taglia non ordino taglie minuscole neanche xxxl però insomma siamo su quella zona d'italia e adesso volevo presentarvi l'argomento perché siamo ottobre e ottobre anche se non sembra ma è pieno di insetti e le nostre piante carnivore catturano veramente tanti insetti ci sono le cimici le mosche le zanzare io voglio che mi facciate un bel video farei un video così poi posso montarli tutti insieme praticamente verrà fuori un bel video le regole sono instagram se non avete un profilo potete usare quello di un altro nel vostro video non mettete canzoni perché altrimenti non riesco a condividerle per condividerle mettete la stag giardino carnivoro e anche il vostro nome in modo che io possa salvarli poi li visiono e poi riesco a montarli e voi scoprirete tramite youtube chi è stato il vincitore finiamo questo contest al 31 ottobre quindi datevi da fare perché il tempo stringe e le piante cominciano a mangiare moltissimo però anche a rovinarsi e ora vado a mostrarvi i premi per i primi cinque per tutti i dieci la maglietta che verrà spedita insieme al vostro futuro ordine e anche per i primi cinque ho preparato delle chicche delle mie seraceni e quelle diciamo un po più rare delle selezioni che ho fatto io quindi sono piante quasi tutte quelle che vi propongo adesso come premio diciamo inedite e sono molto belle andiamo a vederle insieme eccoli qui allora partiamo dal primo premio questa è una danas delight per l 87 boccava vedete che va il colore viola questa è una pianta che ho selezionato per la taglia e per il colore appena un anno quindi prevedo che diventerà molto grande questo è il premio per il primo vincitore poi secondo premio un'altra delizia sempre sul rosa molto acceso anche lei questa è una team pink per l 18 entrambe sono piante rosa però ho voluto creare il cappello della team pink con la bocca classica delle 18 che sappiamo una locofilla abbastanza alta con un bel punto di bianco e la bocca assolutamente rosa vedete però che bel viola che diventa ecco questo secondo premio il terzo è questa pianta qui una bella locofilla molto bianca l'ho già vista adulta perché ne è una un po più cresciuta fa un cappello gigante bianco e la bocca è tutta venata così di viola diventa così però anche più bianco questo è il terzo premio il quarto premio un'altra leucofilla leucofilla hot pink bellissima un'altra selezione tutte sono di taglia discreta diciamo sono comunque piante ancora giovani che devono esprimere il massimo potenziale questo è il quarto premio una bellissima pianta inedita un colore veramente molto viola molto acceso quinto e ultimo premio una delle mie serracenie bianche preferite la l 69 my king bellissima ha una bellissima taglia è un gran bel vaso vedete che alta eccola qui in tutta la sua imponenza bene questi sono i premi guardate il colore anche che si giudicherà il primo bellissima speriamo che diventi larga come l'avvocata il secondo premio il terzo il quarto e il quinto bene ea tutti chiaramente una maglietta del giardino carnivoro bene iscrivetevi al canale youtube così saprete quando metterò i vincitori che riuscirò a montare questo video in bocca al lupo a tutti e vai di cimice ciao ragazzi ciao